Sono passati mesi da quel fatidico giorno. Non crediamo si risveglierà stavolta. Come ho potuto permetterlo? Sono passati mesi da quella promessa. Non importa quanto dovrò allenarmi, quante volte dovrò fallire. Quel maledetto scheletro la pagherà per ciò che ti ha fatto. Sono passati mesi da quando ero ancora un novellino. Vedo che impari velocemente, Cloud. Maestro Huguay, crede che potrei farcela contro un maestro del Keyblade? Oh Cloud, in te già c'è ancora un forte desiderio di vendetta. Fino a quando non sarai capace di sbarazzartene, non avrai speranze contro senso. È passato un solo giorno da quella chiamata. Cloud si è risvegliato. Cosa? Dottore, sia onesto, si riprenderà. Purtroppo lo scontro è stato davvero duro. Presto riuscirà a reggersi in piedi da solo, ma non potrà più impugnare un Keyblade in vita sua. Mi hanno detto cosa vuoi fare, sei solo un folle, Cloud, mi alleno sin da bambino e non sono riuscito nemmeno a scalfirlo. Ti prego, non sfidare Sansi, non voglio perderti. Mi dispiace Peter, so che vorresti tornare a ridere insieme a me e ti prometto che lo faremo, ma prima ho un obiettivo da portare a termine. Ehi fratellone, hai sentito di quel tipo che dice di volerti battere? Ovvio che si papairus, che si faccia anche avanti. Non attendo altro. Non ha proprio speranze quello lì. Peter, finalmente sei riuscito ad alzarti con le tue forze. Dove è Cloud? Beh, lui è. Sii onesta con me, perché non si fa di voda giorni? Lui è andato a sfidare Sans. E va bene, non mi resta altra scelta. Peter, il dottore ha detto di... Non importa cosa dice il dottore, il dottore ha bisogno di me. Persisti fratello, Peter, sta arrivando. Quindi sei tu il famoso Cloud? Un menù classico con il Big Mac, patatine, cheese e bacon, una Coca-Cola grande. Questo è quello che avresti voluto ordinare quel giorno. Non l'ho mai dimenticato. Sai, Cloud è questo momento. Io ti ho mangiato un Big Mac, chi mi va a mare. Vorrei che si ripensassi ogni volta che le cose vanno male e torna qui con la mente. Non sono da solo. Non lo sono mai stato. Prenderemo insieme quel McMenu, Peter. Fosse l'ultima cosa che faccio. Molto nobile da parte tua a fare tutto questo per il tuo amico. Ma avresti dovuto prestare più attenzione. Non importa quanto distanti, saremo sempre migliori, amici. Se l'abbiamo fatta, Cloud, lasciamo diventati se allener sull'Igo Regans. Ti ho comprato una marietà di Evangelion. Guardaci la qua, hanno messo la signorina a misato. Peter, i momenti passati con te sono i migliori che io abbia mai vissuto. Sono stato un idiota a credere di poter battere sense. Non ho alcun rimorso, se non quello di non averti detto addio.